Ben trovati ragazzi, allora in questo video risolveremo un integrale triplo, l'integrale è questo, quindi integrale su un dominio A di 1 su z alla terza in dx, dy, dz. Il nostro dominio A è x, y, z appartenente ad r cubo tale che z è compreso fra 0 e 1, x quadro più y quadro è minore o uguale a 5z quadro e x quadro più y quadro più z quadro è compreso fra 1 quarto ed 1. Ovviamente la solita grafica, allora praticamente x quadro più y quadro minore di 5z quadro, come ben vedete, è una specie di conoide, quindi un cono ovviamente, perché vedete sopra ho esplicitato z, z è uguale a più o meno la radice di x quadro più y quadro fratto 5 e quindi questa funzione rappresenta un cono. Mentre invece, dall'altra parte, abbiamo una sfera, o meglio ancora, io ho rappresentato una semisfera. Perché una semisfera? Perché comunque z è compreso fra 0 e 1, quindi siamo nella parte positiva, la parte sovrastante del piano x, y, quindi una sfera che ha quella più grande raggio 1, che è questa, e quella più piccola, quella più interna, è raggio 1,5, perché sarebbe r quadro, quindi la radice quadrata di 1 quarto è appunto 1,5. Se io ovviamente vado a sovrapporre tutti e due i grafici, otterrò un qualcosa del genere. Ripeto ragazzi, non è necessario che voi ovviamente riusciate a fare queste rappresentazioni durante un esame, e questo è giusto a titolo didattico, dimostrativo. Ovviamente se io vedo il tutto poi diciamo in sezione, avrò un qualcosa del genere. Allora va da sé che a questo punto è opportuno usare le coordinate sferiche. Questo perché? Beh, è semplice ragazzi, perché noi abbiamo praticamente tutta, vedete, ho evidenziato in verde tutta questa parte qua. Allora, io devo poter ruotare di 2π, quindi di 360 gradi, ma ho anche bisogno di ruotare in questo senso. E quindi ovviamente avrò due angoli, l'angolo ovviamente è θ, quello che mi fa ruotare di 360 gradi, e l'angolo Φ, quello che mi è compreso fra 0 e π genericamente. E allora cosa faccio? Passo ovviamente alle coordinate sferiche, ovviamente sono queste qua, già lo sappiamo, ricordiamoci che lo Iacobiano è rho quadro seno di Φ, e poi ovviamente vado a riprendere, ok? Vado a riprendere il nostro dominio, e vediamo di applicare appunto le nostre coordinate sferiche, per vedere insomma entro quali range variano poi i vari parametri. Allora, x quadro più y quadro più 0 quadro compreso fra un quarto e uno, è come scrivere rho quadro, perché se vado a sostituire le nostre coordinate sferiche otterrò semplicemente rho quadro, compreso uguale fra un quarto e uno, il che significa rho compreso fra un mezzo e uno. Dovendo essere rho maggiore o uguale di zero, ovviamente metto a sistema questa soluzione con questa, mi rimarrà ovviamente il rho compreso fra un mezzo e uno, che comunque è maggiore di zero. Per quanto riguarda l'altra, invece abbiamo x quadro più y quadro minore uguale di 5 z quadro, andiamo a sostituire, il nostro x quadro più y quadro diventa rho quadro se in quadro Φ, minore uguale di 5 rho quadro cos in quadro Φ, proprio andando a sostituire queste nostre coordinate. Ricordiamoci che ovviamente se in quadro Φ lo posso scrivere come 1 meno cos in quadro Φ, questo per semplificarmi un po' i calcoli, perché qui abbiamo la funzione seno, qui la funzione coseno, riporto tutto in coseno e il gioco è fatto. Quindi avrei a conti fatti 6 cos in quadro Φ maggiore o uguale a 1, ossia cos in quadro Φ maggiore o uguale a 1 sesto. Qui ci sarebbe ovviamente da risolvere questa disequazione goniometrica, ma ragazzi come dico sempre la grafica è sempre la chiave di volta, la soluzione a tutto. Allora osservate un attimo, la funzione cos in quadro Φ è questa, è una funzione del genere, ovviamente è sempre positiva, ovviamente perché è al quadrato, e un sesto è questo valore, perché se questo è 1, diciamo più o meno approssimativamente un sesto è la sesta parte di 1. Quindi ovviamente dov'è che la nostra funzione, ricordiamoci che Φ è compreso fra 0 e π, ma dov'è che la nostra funzione è maggiore di un sesto? Beh è maggiore di un sesto fra 0 e questo valore, ma osservate bene, questo valore ragazzi non è un arco noto, ok, π mezzi è un arco noto, π così, ma questo valore non lo conosco. Allora si passa alla funzione inversa, io questo valore lo chiamo come arco coseno di 1 su radice di 6, questo perché? Perché se tolgo ovviamente il quadrato, qui sarà, se considero l'equazione associata, qui sarà più o meno la radice di un sesto, ossia 1 fratto radice di 6. E allora questo valore ovviamente, cioè Φ, sarà uguale all'arco coseno di 1 su radice di 6, ok? E quindi eccolo qua il nostro valore, arco coseno di 1 su radice di 6. Perfetto, quindi posso scrivere formalmente che Φ è compreso fra 0 e il coseno della meno 1, ossia il modo di scrivere l'arco coseno, ossia la funzione inversa del coseno, di 1 su radice di 6. Ovviamente non posso andare oltre, perché Φ ovviamente è compreso fra 0 e π, ma poi questo valore ce lo riavrei anche a π, ma non mi interessa dopo, perché ovviamente non posso andare oltre. Mentre invece l'angolo θ non abbiamo problemi, cioè io faccio un giro ovviamente di 360 gradi e quindi θ mi varia fra 0 e 2π. Fatto questo, queste piccole considerazioni, possiamo passare all'integrale. Possiamo scrivere che l'integrale sul dominio A di 1 su 0 al cubo in dx, dy, dz sarà uguale all'integrale sul dominio A' il nuovo dominio che abbiamo trovato, di 1 fratto al posto di z vado a sostituire le coordinate polari, quindi diventerà ρ al cubo coseno al cubo di Φ, e ovviamente questo poi rappresenta lo jacobiano. attenzione, ρ quadro, seno di Φ in dΦ, 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 dΦ. E ovviamente con le opportune semplificazioni, ρ quadro si elimina col cubo, quindi avrò 1 su ρ che lo posso portare come costante fuori dall'integrale, ma ρ sappiamo che variavo, ci dava fra un mezzo e 1, quindi 1 su ρ da calcolare fra un mezzo e 1, in dΦ ovviamente, poi integrale fra 0 e coseno alla meno 1, cioè l'arco coseno di 1 su radica al 6, di sen Φ fratto cosen cubo di Φ, che è quello che mi rimane dopo aver semplificato i ρ, perché, vedete, figura l'angolo Φ, e quindi è in dΦ che lo vado a calcolare, e quindi fra questi estremi. E poi per l'integrale fra 0 e 2π in dΦ. Ovviamente qui, ragazzi, ho riportato in verde come si svolge questo calcolo integrale, praticamente coseno al cubo di Φ l'ho passato al numeratore, ovviamente cambiando l'esponente, il segno dell'esponente, quindi avrò, genericamente, vedete, l'ho scritto qua sotto, una f all'alfa per f'', effettivamente la derivata del coseno è appunto il seno di Φ, e quindi avrò meno sen Φ, coseno alla meno 3 di Φ, ovviamente il meno lo, diciamo, lo compenso con il meno fuori dall'integrale, e quindi alla fine avrò f all'alfa di 1 più α più 1 fratto α più 1, quindi in definitiva avrò meno coseno di Φ alla meno 2 fratto meno 2, ossia meno per meno fa più, quindi un mezzo coseno al quadrato di Φ. quindi l'integrale di 1 su Φ è appunto il logaritmo naturale di Φ, da calcolare fra 1 e un mezzo, questo è 1 fratto 2 cosen quadro Φ, da calcolare fra 0 e coseno alla meno 1 di 1 su radica 6, per ovviamente, qui avremo come soluzione θ, da calcolare fra 2π e 0, quindi uguale a 2π. Ovviamente qui vi ho riportato dei piccoli calcoli, giusto per, allora il logaritmo naturale di Φ, da calcolare fra 1 e un mezzo, vado a sostituire da prima 1, meno logaritmo naturale di un mezzo, logaritmo naturale di 1 e 0, meno logaritmo naturale di un mezzo, lo posso scrivere con la proprietà dei logaritmi, come logaritmo naturale di 1 meno logaritmo naturale di 2, ma il logaritmo naturale di 1 è sempre 0, meno per meno fa più, quindi questa quantità è praticamente uguale al logaritmo naturale di 2. Quest'altra invece come la calcoliamo? Beh, vado da prima a sostituire questa quantità, cioè il coseno alla meno 1 di 1 su radica 6, quindi avrò 1 fratto 2 coseno del, al posto difficile vado a mettere questa quantità, quindi coseno alla meno 1 di 1 su radica 6, ma il coseno dell'arco coseno è proprio uguale a 1 su radica 6, che elevato al quadrato è appunto un sesto, che poi moltiplicato per 2 fuori è uguale a 2 sesti, quindi avrò 1 fratto 2 sesti, poi alla fi vado a sostituire il valore 0, il coseno in 0, che sia al quadrato, è sempre uguale a 1, quindi meno un mezzo, quindi in definitiva avrò 1 fratto 2 fratto 6, meno un mezzo, portando poi, facendo il reciproco, portando la moltiplicazione, in definitiva avrò che questo valore sarà uguale a 5 mezzi. Quindi vado a moltiplicare il tutto, quindi avrò 2 pi greco per 5 mezzi per logaritmo naturale di 2. Due e due si semplificano e questo è il risultato del nostro ipervolume da calcolare su quel dominio D, cioè il volume tra la nostra funzione integranda e questo dominio. Ok ragazzi, io spero di essere stato chiaro e arrivederci al prossimo video con qualche altro integrale triplo. Grazie a tutti.